L'ultimo giorno del nostro tour siamo arrivati a Gerico Coara, la destinazione balneare più bella di tutta la regione. Le strade di Geri sono fatte di sabbia, la cittadina è piena di alberghi, di ristoranti e di negozi, e l'area che si respira è di eterna vacanza. A bordo di un buggy ci siamo diretti verso la Pedra Forada, un arco di roccia scavato dal mare che è diventato il simbolo di Gerico Coara. Siamo quindi andati verso la Grande Duna per ammirare il nostro ultimo tramonto in Brasile. Qui il Porto Sol è diventato un vero rituale, e ogni sera centinaia di persone si radunano su questa duna per viverlo insieme. Così la mia ultima giornata in Brasile si conclude come la prima, davanti a un tramonto mozzafiato. Ringrazio la rotta delle emozioni by Life Viaggi per avermi portato in questi posti unici al mondo.